Musica Incidente questa mattina sulla statale 121 alle porte di Paternò. Quattro i mezzi coinvolti, sei i feriti, una persona condotta in elisoccorso al Cannizzaro. Un carabiniere si finge postino e si fa aprire la porta dallo spacciatore. Arrestato Puscher, 44enne a Biancavilla. In casa deteneva Eroina e Marijuana. E' bastata la pioggia di questi giorni per far formare nuovamente il lago Naviccia ad Adrano. Anche in zona a Patellaro una strada allagata rende difficile la circolazione. A bel passo l'ex albergo per anziani di Borrello diventerà una scuola con i fondi compensativi di Terna per il passaggio dell'elettrodotto alla Piana di Catania. Presentato questo pomeriggio a Villa delle Favare a Biancavilla, il libro di Alfio Grasso ispirato al poeta biancavillese Placido Cavallaro. Martedì 5 febbraio 2019, buonasera dalla redazione di IV24. Ennesimo grave incidente stradale questa mattina sulla strada statale 121 in territorio di Belpasso. A rimanere coinvolte 4 automobili con 6 persone ferite sul posto e anche intervenuto l'elisoccorso. Sentiamo i dettagli di quanto è avvenuto oggi. Un nuovo gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 11.20 sulla strada statale 121 nel tratto compreso fra Catania e Paternò, sulla corsia in direzione di quest'ultimo centro abitato. E' il secondo incidente nel giro di pochi giorni che si registra nel raggio di pochi chilometri. Coinvolti nel drammatico scontro quattro mezzi, un camion, una BMW, una Mercedes e una Citroen C3. Il bilancio è pesante, sei feriti, di cui uno, il conducente della Citroen, è stato condotto in elisoccorso in codice rosso al policlinico di Catania. L'eliambulanza è atterrata in un terreno incolto al bordo della strada per essere poi raggiunta dall'ambulanza del 118 con il personale sanitario di terra. Oltre ai feriti trasportati nell'eliambulanza, nell'impatto sono rimaste ferite altre quattro persone condotte da altrettante ambulanze nei pronto soccorsi di Catania e provincia. Luogo dello scontro, il rettilineo di Contrada Giagonia-Palazzolo, a qualche centinaio di metri dall'omonimo Svingolo. Rimane ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro, anche se la versione più accreditata sembrerebbe essere quella del tamponamento, magari favorito dall'asfalto reso viscido dalla pioggia che si abbatteva in quel momento su quella zona. Pesantemente danneggiato anche il guardrail, che divide in quel tratto la carreggiata a doppio senso di circolazione. Grazie alla presenza di questa divisione centrale, si sono comunque evitati certamente danni peggiori ad altri automobilisti. A causa dei quattro mezzi in carreggiata, si è formata una lunghissima fila in direzione Paternò. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia paternese e anche gli uomini del soccorso stradale, che hanno ripulito l'asfalto, ripristinando la sicurezza dell'arteria dopo diverse ore dall'impatto. Arresto con un'idea geniale, quello avvenuto a Biancavilla, dove i carabinieri per riuscire ad entrare nell'abitazione di uno spacciatore hanno travestito un militare da Postino. Ma sentiamo i particolari nel servizio. Si finge Postino e incastra lo spacciatore. Accade a Biancavilla, dove i carabinieri della locale stazione hanno escogitato un piano efficace per arrestare in flagranza di reato un pusher, un biancavillese di 44 anni, con precedenti specifici. L'accusa è di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio antidroga, i militari hanno osservato per bene il metodo utilizzato dal 44enne per cedere le dosi. In pratica smerciava la roba dalla sua stessa abitazione, evitando, per quanto possibile, di aprire la porta. Quando lo faceva, controllava dalla finestra per capire se dietro l'uscio vi fosse un cliente o un potenziale pericolo, ovvero le forze dell'ordine. E quando le cose non gli quadravano, aveva il tempo di disfarsi dello stupefacente. Vista la situazione, è scattato un piano, consistente nel travestimento di un carabiniere da postino, per far aprire la porta allo spacciatore. Recitando al citofono una sorta di C'è posta per te, il militare ha invogliato l'uomo ad aprire per la consegna di una lettera. Il militare, una volta dentro, ha subito bloccato il 44enne, consentendo ai colleghi di eseguire una perquisizione domiciliare, al termine della quale sono stati rinvenuti e sequestrati 15 grammi di eroina, un barattolo contenente alcuni grammi di marioana, un bilancino elettronico di precisione, 20 euro in contanti, materiale per il confezionamento delle dosi. Al pusher, in attesa della direttissima, sono stati accordati gli arresti domiciliari. Esposto di diversi consiglieri comunali di opposizione a Paternò sull'incarico al segretario generale del comune paternese, Giuseppe Bartorilla, avvenuta qualche giorno fa che i promotori dell'esposto ritengono illegittima. Nell'atto, i consiglieri scrivono che alcuni atti connessi alla nomina non risultano adempiuti dal segretario generale, fatto che determinerebbe, per chiaro dettato normativo, l'inefficacia della nomina stessa e di tutti gli atti sottoscritti dal segretario. I consiglieri chiedono quindi l'annullamento in autotutela degli atti sottoscritti dal segretario nominato in quanto inefficaci e dalle autorità coinvolte di verificare l'esatto adempimento anche a mezzo di specifica attività ispettiva. Ancora disagi ad Adrano per il continuo allagamento in contrada Naviccia, automobili costrette all'inversione di marcia o a rischiare il guardellago per accedere alla città. Sentiamo i dettagli nel servizio di Luca Crispi. Storia vecchia, vista e rivista, a cui però è difficile abituarsi. Ci troviamo ad Adrano, in contrada Naviccia, dove anche oggi, come dopo ogni pioggia, si ripresenta in maniera inesorabile un problema che ormai da anni viene denunciato a più voci, ma che non sembrerebbe trovare una concreta soluzione. Non importa se il cielo doni un leggero scroscio o un imponente temporale, il famoso lago Naviccia riappare. Sei mesi di tempo per risolvere il problema, aveva detto il sindaco Dagate nel mese di ottobre, che dovrebbero scadere nel prossimo mese di aprile. Ma nel frattempo, i problemi rimangono, e in questi mesi di attesa che separano Adrano dall'approdo alla terra promessa della soluzione del problema, e diciamo noi, speriamo che non si tratti di un'isola che non c'è, dall'altra sponda del lago non si vedono nemmeno soluzioni provvisorie che potrebbero attenuare il problema dell'acqua alta. E' come se non bastasse in una sorta di competizione tra zona Patellaro e la vicina Naviccia, anche in via Primo Maggio, davanti al secondo circolo Don Antonino Lamela, degno di segnalazione, è un secondo laghetto che rende difficoltosa la circolazione in una zona d'alto traffico, soprattutto nell'orario di ingresso e uscita degli scolari da scuola. Ma siccome ad Adrano non ci si vuole far mancare nulla, a rendere ancora più entusiasmante l'esperienza quotidiana degli automobilisti, sono le centinaia di buche presenti sul manto stradale, disseminate nelle varie vie della città. Via Solicchiata, Via Donatello, Via Pietronenni, sono solo alcune delle vie che soffrono dell'incuria del manto stradale a discapito della sicurezza degli automobilisti. Agli Adraniti, dunque, non rimane altro che attendere aprile, sperando che si possa vivere una resurrezione e non un pesce d'aprile. È stato convocato in seduta ordinaria per martedì 12 febbraio alle 20 presso l'aura consigliare del Comune di Biancavilla il Consiglio Comunale Biancavillese. Tre saranno i punti all'ordine del giorno. Si discuterà dell'approvazione del bilancio consolidato riguardo l'esercizio del 2017 e del bilancio di previsione 2018-2020 circa le variazioni di bilancio per area di cava e miur. Belpasso avrà presto una nuova scuola grazie alle opere compensative previste dal protocollo sottoscritto con Terna per il passaggio di un elettrodotto nel territorio comunale. Sentiamo Chiara Germenani. Il passaggio dell'elettrodotto nel territorio di Belpasso che avverrà nella zona della Piana di Catania vale per la città una scuola. È in pratica l'esito della trattativa sulle opere compensative ovvero il consenso espresso al Comune di Belpasso a Terna SPA la società che gestisce le reti per la trasmissione dell'energia elettrica per il passaggio di cavi e tralicci dell'alta e dell'altissima tensione nel territorio comunale dietro un compenso di 1 milione e 110 mila euro. La somma verrà utilizzata dall'amministrazione comunale per realizzare una scuola nell'edificio della Casa Albergo Peranziani di via Anna Frank a Borrello edificata 30 anni fa e mai entrata in funzione. L'elettrodotto attraverserà non solo Belpasso ma anche Augusta Priolo Melilli Carlentini Paternò Catania e Motta Sant'Anastasia insistendo nel tratto che interessa la provincia etnea nell'area della Piana di Catania in un contesto privo di aree urbane. In totale Terna cederà ai comuni 8 milioni e mezzo di euro che verranno equamente distribuiti. Come detto solo Belpasso ha chiuso l'accordo mentre altri comuni pretendono somme maggiori. A Ivi24 il primo cittadino Daniele Motta dichiara saremo i primi fra i comuni coinvolti a realizzare una struttura pubblica. Motta si dichiara favorevole alla realizzazione e alla buona riuscita del progetto non sottovalutando il problema dell'elettrosmog che l'alta tensione potrebbe arrecare a causa dell'esposizione prolungata dell'uomo ai campi magnetici. La legge prevede che gli elettrodotti siano collocati in zone disabitate di campagna lontani dai centri abitati e dalle frazioni. Pertanto nonostante sia stato registrato un inurbamento delle zone rurali il sindaco rassicura i suoi cittadini l'elettrodotto sarà lontano dai centri abitati. Un piccolo passo a difesa dell'ambiente e a salvaguardia delle sempre più distrattate aree naturali è questo lo scopo con cui l'associazione culturale Cettina Bisacca Figlia d'Arte ha adottato due aree verdi a Paternò Sida in via Giovanni Verga ed in via dei Normanni abbiamo iniziato in queste due opere una prima opera di discerbamento con l'eliminazione di calcinacci e tutto ciò che rendeva le aree invivibili ha raccontato ad IV24 proprio Cettina Busacca abbiamo apposto anche due insegne che ricordano sia mio padre il cantastore e Nino Busacca sia me con una frase che dice che tutti amiamo come il verde ma nessuno lo vive come dovrebbe essere vissuto nonostante il maltempo che ha costretto i fedeli nella giornata di ieri a velocizzare il giro esterno di Sant'Agata a Catania oggi si è svolto regolarmente il tradizionale giro interno della Santa che ha lasciato la cattedrale intorno alle 17.30 per farvi ritorno domani mattina dopo l'attesissimo momento di preghiera delle suore benedettine di via Crociferi ma sentiamone di più nel servizio neanche il maltempo che da ieri abbraccia gran parte della provincia di Catania è riuscito a fermare i festeggiamenti in onore di Sant'Agata patrona della città la pioggia che aveva allarmato le autorità con il rischio di dover annullare l'uscita della Santa dalla cattedrale e di conseguenza il cosiddetto giro interno per le vie della città alla fine ha lasciato spazio ai festeggiamenti per la gioia di fedeli turisti e commercianti vari la paura che il maltempo potesse ostacolare il regolare susseguirsi degli eventi aveva già trovato partita nella tarda mattinata di oggi dal comitato per la festa con a capo Francesco Marano che aveva comunicato il regolare svolgimento delle celebrazioni data anche la sicurezza delle strade resa possibile dalla segatura stesa dagli addetti ai lavori il fercolo della Santa ha lasciato la cattedrale intorno alle 17.30 cominciando il giro interno alle 18 nella giornata di ieri la pioggia aveva costretto i fedeli a velocizzare il consueto percorso esterno e costretto ad annullare la processione per le candelore riposte per tutta la giornata prima in piazza dei martiri e poi all'interno della cattedrale le preghiere dei fedeli che per tutto l'anno attendono la festa di Sant'Agata sono state così accolte in modo da chiudere in bellezza la tre giorni di devozione storica ha preso il via sabato scorso all'ospedale Garibaldi di Nesima l'edizione 2019 della Cine la Segna in ospedale Ciac Sigiri promossa dal nosocomio e dalla Lilt ovvero Lega Italiana per la lotta contro i tumori la proiezione che è gratuita avverrà ogni sabato alle ore 16 ed è rivolta ai malati oncologici e ai loro familiari oltre ai degenti degli altri reparti dell'ospedale ad accompagnare i pazienti alle proiezioni sono i volontari della Lilt etnea nell'ambito dell'attività di supporto psicologico a valenza riabilitativa che rientra nella prevenzione terziaria che riguarda la qualità di vita del paziente oncologico la conclusione del cinema in ospedale avverrà il 27 aprile pomeriggio culturale quello di oggi all'interno della Villa delle Favare a Biancavilla con la presentazione del libro L'agricoltura nella poesia dialettale di Placido Cavallaro di Alfio Grasso Nero su Bianco Editori per noi a seguito l'evento Luca Crispi è stato presentato questo pomeriggio all'interno di Villa delle Favare di Biancavilla il libro del professore Alfio Grasso dal titolo Antichi versi contadini l'agricoltura nella poesia dialettale di Placido Cavallaro Nero su Bianco Edizioni il saggio è dedicato al poeta biancavillese Placido Cavallaro vissuto a cavallo tra il 1700 e il 1800 l'autore attraverso questa sua opera ha voluto indagare sulla produzione poetica di Cavallaro e trarne delle informazioni di tipo storico sociali sul territorio ma sentiamo l'autore del libro è realizzato nasce da cinque poesie che sono di produzione del Cavallaro dove spiega per più e per segno l'agricoltura come dovrebbe com'era e come dovrebbe essere di fatto lui non manca di dire se non avesse l'età che ciò avrei fondato l'accademia dell'agricoltura lui era un po' vecchio e peraltro senza soldi e quindi tutto questo non era possibile ecco e da lì lui cerca in qualche maniera di esaminare la parte relativa alla alla l'agricoltura lui dice come se coltivavo frumento proprio in questi termini e non raccomanda altro di studiare studiare perché approfondire certi aspetti dell'agricoltura è cosa importante se realmente vogliamo delle produzioni più redditizie questo mi ha portato diciamo così a sviluppare questi aspetti in modo di farli conoscere e farli conoscere non soltanto la poesia ma anche le tradizioni la storia del paese perché sono tutte cose in qualche maniera connesse sarà ancora Andrea pensa bene l'allenatore del paterno calcio dopo la notizia giunta nel tardo pomeriggio di ieri in una nota ufficiale del club paternese in cui si comunicavano le dimissioni presentate dal tecnico palermitano questa mattina sempre attraverso un comunicato facebook della società rosso-azzurra è stata annunciata la volontà del padrone Ivan Mazzamuto di rigettare le suddette dimissioni pensa bene dunque continuerà a guidare la compagine paternese ed è già al lavoro per preparare la delicata trasferta di Palazzolo a Creide contro i padroni di casa gialloverdi attualmente terzi e tra le candidate principali per la vittoria finale del campionato di eccellenza e questa era l'ultima notizia vi ricordiamo che potete rivedere questa e tutte le altre edizioni di IV24 notizie sui siti ivtv.com e iv24.it per ogni segnalazione potete contattarci ai recapiti che vedete in sovraimpressione inoltre per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del comprensorio vi consigliamo di seguire IVTV sui principali canali social e da poco anche su Telegram e nell'augurarvi una buona serata vi ricordiamo di continuare a seguire i programmi di IVTV